Un incendio di vampato questa sera venerdì 4 gennaio intorno alle 19.30 in una palazzina situata in Corso Grosseto a Torino. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Torino, circa una ventina di persone, sono state fatte evacuare. Salvate una donna che è rimasta lievemente intossicata ed è stata trasportata al San Giovanni Bosco e due gattini. L'evacuazione dei residenti è durata il tempo necessario a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza la palazzina. Grazie a tutti.